Ben trovati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone delle Azzorre ha ormai conquistato gran parte del Mediterraneo centrale, quindi ci aspettiamo condizioni di bel tempo su tutto lo stivale, con possibili nebbie al mattino nelle vali appenniniche e alpine e sulle pianure del nord. Temperature massime e gradevoli durante le ore centrali della giornata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 22 febbraio. Giornata stabile e piuttosto mite, con cieli sereni o poco nuvoluosi su entrambe le regioni. Qualche addensamento più consistente nelle aree più interne della Puglia e della Basilicata, ma senza alcun fenomeno. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, che risulteranno stazionarie o in lieve aumento, le massime, con punte di 18 gradi nelle pianure interne come tavoliere e litorali della Puglia. Ancora rigide invece le minime che risulteranno in netto contrasto con le massime, acquendo l'escursione termica. Venti da deboli a moderati nel pomeriggio dai quadranti sud-occidentali, mari da mossi a poco mossi. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Pietro Carnevale per questa particolare foto che è immortale nei pressi di Rodi Garganico e pescatori mentre gettono in mare le loro reti. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle email che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.